Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Domenica pomeriggio da Bollino Rosso per il controesodo estivo al momento in A1 si registrano code a tratti verso nord tra Monte San Savino e BV1 Variante e tra Aglio e BV1 Variante. In carreggiato opposta restano code a tratti tra Incisa Reggello e Arezzo. In A12 rallentamenti verso Genova tra il nodo A12 raccordo Lucca-Viareggio e il BV1 A15 Parma-La Spezia. Ultima pagina per il traffico ferroviario in seguito ad un controllo tecnico ai sistemi di bordo al regionale 2309 il treno è ripartito da Chiusi-Chianciano-Terme con 57 minuti di ritardo. Coinvolto inoltre il regionale 11676 Chiusi-Firenze-Santa Maria Novella non ancora partito. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!